Oh no! Scusate ma è stato abbastanza brutto quello che si è visto Eeeh what's up a tutti c'è ormai e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Oxenfree Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno Finalmente eravamo riusciti ragazzi ad attraversare più o meno i boschi Siamo arrivati nella zona in cui dovrebbe trovarsi il nostro amico Ren Ci ricordiamo che siamo andati appunto alla ricerca del nostro amico Abbiamo incontrato anche Nona che non si fidava di noi Ha avuto non so allucinazioni insomma ragazzi è successo un mezzo casino Fatto sta che non ci resta che andare a cercare Ren Va bene caro Jonas Ma non ci deve essere un motivo? Stai ancora pensando a quello? E' semplicissima la spiegazione E' semplicissima la spiegazione E' semplicissima la spiegazione E' semplicissima la spiegazione Che non si vedeva nulla E' semplicissima la spiegazione Non ci deve essere un'islanda C'è un'islanda E' semplicissima la spiegazione E' semplicissima la spiegazione Si incontrato la spiegazione Ma che cavolo di problemi hai? Interessante Era così Direi che possiamo continuare E andare su Perché chi è? Stiamo a perdere tempo Qua parla di isole, di viratori, di pozzi Dei desideri, di sta cippa Non so se andare su di qua o su di là Sinceramente Vabbè andiamo su di qua Visto che ci siamo Tanto l'uno o l'altra l'importante è arrivare su Eccoci qua Questa è la stazione secondaria No? Mi fa piacere vedere che stai bene Secondo te so cosa sta succedendo? Siamo di nuovo bloccati Perché c'è l'irrende tipo zombie? Che sta succedendo di nuovo? Già, infatti E forse qualcosa non torna direi Ren! Oh Aspetta Prima sembravano zombie Un attimo Vado lì così Non lo so Cerchiamo di dire a chi a parlo Non sembra andare così veloce Sta male tipo Sta male tipo È come se ha un fervo o qualcosa Oh Ren? Sei in là? Yuhuu Merda Continuo a prendere per sbaglio Yuhuu Come on pal I vicini sono qui E vogliono portare un po' di zucchero Questo non è un ragazzo di droghe Non che voglio Alarmare Non vorrei dire la parola possessione Ma Non so come finirla Svegliate amico Siamo qua Cosa dice il cartello? Non so se ti ricordi Ma la ultima volta che siamo iniziati Abbiamo usato una di queste cose Per uscire Quindi Non sto solo Spendendo ora Sì Mi ricordo Mi ricordo Kind of Ok Questo dovrebbe essere a posto Non ci resta che Cercare di Risistemare anche questo qua sopra Ok raga Continua ad essere tutto Assurdo A mio avviso Perché Hey Where did Ren go? He was Standing Red Oh Dio Non mi dire che è sparito Te prego Era qui C'eravamo L'avamo trovato Non c'è Non c'è Che palle E dov'è Scassato Scassato Non scassato In qualche modo Ci ha chiamato Fatto anche la rima Ren Dove mi zica sei Amico No c'è No c'è Non muovono qualcuno con una malattia spina, ma è come, abbiamo bisogno di fare qualcosa, certo? Questo è un po' diverso da un accident di trampoline, è come si tratta di un bambino di starchildo Ma, io so, è diverso, io so che è diverso, sto solo dicendo che dovremmo fare qualcosa, non so cosa Io ho paura ragazzi, ve lo dico così, dovremmo fare qualcosa, non mi fa avvicinare più di così ragazzi Ah proviamo, ah si, con la radio Oddio, aiutando, spero Oddio, faccio più fredda Oddio 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 You are dolls would never plot hurt you. Can't hurt hurt you. Can't hurt hurt you. Can't hurt you. Can you help us? We're stuck here and we just want to go home. Home. Camina. We will go home. All of us. Leave. Possible. Uh, maybe, but I don't really... Grounded by Adler. The Margaret. Pretty. Little. We don't... We don't know what you want. If you could just tell us what you want us to do. You. Fall. Close. Don't. Leave. Get. Sit. Still. Bear. Freaking. Tag. You. Get. If you can't even go home. What's going on? They're alive. I am? I am. Why was that a question at first? Why? Why is this... why? Actually, thanks for coming, by the way. Sure. Why is this happening? I mean, I've been here. I visited this place like 15 times. Sì, 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 sì. Sì, ti va bene andare? Buona fortuna, ciao ciao, vabbè, Milner Ho, ho sbagliato il tasto, ok ragazzi, dobbiamo andare a Fort Milner a cercare quell'antipaticona di Clarissa, non vedevo l'ora io da rivederla, non ci resta che andare verso l'antipaticona, Ren, deciditi dove devi andare, ci vediamo amico, mi raccomando, fai il bravo, dobbiamo andare verso destra e attraversare il ponte, ma Ren, tu va dove devi andare, va a salvare la tua dolce ronzo alla nona e cerca di non fare pasticce, ok? Ciao ciao, è stato un piacere rivederti e liberarti dagli spiriti, ciao ciao, questo è il ponte che dobbiamo attraversare ragazzi, prima o poi, ma Ren viene o non viene? Non ho capito perché ci sta seguendo, non lo so, vabbè, comunque di qua dobbiamo andare, questo è chiarissimo, andiamo all'avamposto, continua ad essere tutto un gran mistero, davvero, prima o poi qualcosa dovrà essere spiegato per forza, la situazione dovrà essere chiarita per forza, perché così... Non se può andare avanti, va bene, non se può, non resisto, non resisto Non si può dire, si, si, si Certamente parentale sono in giro, senti sembrano Dovêtre fu outside o sono in ingloigta, io mi ha detto un po' passaggio préle Io credo che sono troppo uscito è vicino a l' readsine Più di essere stati stampamente cierto, anche in pazza, è quanto android di注o Va bene, non ci tocca che scendere giù di qua allora. Di che stai parlando? Qual è il progetto segreto? Come, cosa? Finalmente sottolineano il potere di... Mind control! Sì, mind control! E hanno fatto una macchina di mind control e ehm... E siamo tutti soffermi come un miraggio collettivo! Eh, spero di sì! Sì, ora sarebbe bello, non? Se nessuno di questo avrà avuto, è solo un tipo di fervo di soggetto di un'aciditribomb. Non so se è bello, ma sarebbe bello di sapere. Allora, aspettate un attimo, perché questi continuano a parlare e non vedo dove devo andare. Allora, una strada forse potrebbe essere questo palazzo qua. Il punto è, la porta sarà aperta? Sarà chiusa? È come... non è fermata. C'è qualcosa che blocava. Clarissa! Lei non abbia barricaduto dentro, certo? E cosa pensi? Continuando a guardare? Credo sia qui. Sì? Cioè, la porta potrebbe essere bloccata da nulla. E potrebbe essere bloccata prima di arrivare qui, certo? Non lo so. Non lo so. Magari sei vero. Un motivo ci sarà. Vediamo un attimo sti cartelli che dicono. È una cosa certa, è a destra che dobbiamo andare, però così non possiamo. Per cui mi sa che l'unica cosa che ci rimane da fare è interagire con quella lampada là, ragazzi. Vedere se succede qualcosa di misterioso di nuovo. Eh, Jonas, io giocherello un po' con le frequenze, eh? Tu sei tranquillo. Ok. Vediamo un po'... Si è aperta la porta. Allora, io so le risposte sono no. No. Cosa è questo? Vuoi giocare un gioco? Si è aperta la porta. Certo. Allora, io so le risposte sono no, ma abbiamo bisogno di trovare Clarissa, quindi... Sì, infatti. Allora, aspetta un attimo. Direi di dirigerci direttamente alla porta che si è aperta, ragazzi. Magicamente, un attimo farà bloccata, abbiamo giocato un po' con le frequenze, e voilà! Altro che allo Moratz! Che ce ne va Harry Potter? Io c'ho la radiolina magica che apre qualsiasi serratura. Vabbè. Entriamo Jonas, che ne dici? Andiamo alle strutture, va. Intanto continuo a cagarmi addosso per qualsiasi cosa. Ok. Non sembrerebbe essere... Si è chiusa. Guarda a caso. Vabbè. Impossibile tornare indietro ora. No. 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 Mi interessa a sto punto. No. 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 Si è sarebbe pist nhữngAKE vanc протBA ing. Va bene... Qua al sotto c'è qualcosa di interessante... Ah. Ovviamente... No. Ne necessVISiamo delle切ine la cavera o algoiasi. O il codice, se ha un codice magari lo troviamo. Via Jonas fammi passare sono io il leader delle situazioni, dell'esperizione. Su, su, su Oh, ferma Jonas Non volevo premere Clarissa Jonas Non era Clarissa quella Oh Porca vacca, dai Ma come ti è venuto in mente? Presto mi mancheranno le sue infinite chiacchiere Ne sono sicura Perché quella L'ho visto L'ho visto L'ho visto Come cazzo Spiterina Ti è venuto in mente di lasciarmi No, 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 no Mi prego, basta Lasciatemi in pace Come ti è venuto in mente di lasciarmi Qua da sola Ok Non c'è Eh Ma va, ma va Davvero Prova a sfondarla Ok, sto arrivando Aspetta Che Jonas Oddio Fa parlare Jonas con sua mamma Oddio Non è quello che ho premuto Ragazzi, eh Cos'è questo? Ci sono Così semplicemente A posto Una serie di cose strane Guarda Dilla a me Che sono rimasta da sola Qua fuori Oh, here's the code for the padlock 3, 4, 18 Ok Ok 3, 4, 18 3, 4, 18 3, 4, 18 3, 4, 18 3, 4, 18 3, 4, 18 3, 4, 18 3, 4, 18 Oh, oh, oh Andavai Non mi fa muoci Non mettermi paura Ora non fareste viaggi Non mi fa muovere Ma perché? Che devi provare Oddio, no Poi non la voglio vedere Quella foto È proprio l'ultima cosa A sto punto Che vorrei vedere In vita mia Te lo giuro Allora 3, 4, 18 Se non mi ricordo male Apriamo sto lucchetto La storia Si sta facendo Abbastanza spaventosa Ah, ok E basta Premi sto tasto Minchia Voilà Che, 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 che Cosa? Ok, raga È che A volte Quando succedono cose Lo scenario comunque È abbastanza grandicello Quindi magari potrebbe succedermi Che mi sfugge qualcosa Andiamo, va Non la voglio vedere Con la foto Non la voglio vedere Con la foto Ecco Lo sapevo Perché Alex Sembra avere un'aria Così tranquilla Ha detto Non la voglio vedere Non la voglio vedere Ovviamente Che fanno Me la fanno vedere Bene Bene L'angolino Scusa Scusa Ok Falla Non rompere Dai Su Fantastico Non ti sto guardando Infatti Sì Più si Uffa Ok La situazione è abbastanza Embarassante È finito Possiamo Andarcene Basta Abbiamo abbastanza Ok Cosa c'è qua Finestra Scavalchiamo Andiamo di sotto Tammazza Oh Dov'è Dov'è Clarissa Torna qui La con c'è Tu madre Questa sembrava La vera Clarissa Ragazzi Che la porta è aperta No Se la sta solo Facendo sotto Anche Tanto per aggiungere Qualcos'altro Ragazzini Sì sì Posso aprire la porta Non lo so Oddio no Letteralmente No 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 Non riesci a crederci Non voglio giocare Non voglio giocare Non voglio giocare Posso uscire in qualche modo Perché ci fate un test Perchè ci fatto un test Perché ci fate un test Ho sbagliato Fatelo nel male a Jonas No non è giusto Ecco ho sbagliato I tasti sono invertiti Perché dovrei farlo? Lasciate lo stare Non ne ho la minima idea 53, non lo so Non lo so Ma deve durare ancora tanto sta cosa, sta tortura? Devo usare la radio? Non lo so Ah sì Aspettate Bene, è stato il momento di aprire Oh merda Un altro di quei varchi là Cioè perché ci state costringendo a questa cosa? Non capisco Gesù, Giuseppe e pure Maria Che Dio, l'altra frequenza Dov'è, dov'è, dov'è Ah sì 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 per la prima volta in pacific waters patroli per l'anima pacific waters patroli per l'anima per la periscope the commander looks out over the ocean's surface canaloa was lost today lost at sea why are you here was it something we what a question never left what what do you want what what do you want we're the first time we're the first time we're the first time just time what i that was not fun are you feeling better i'm feeling let's start with that this has been united news and thank you for listening lascateci andare madre mia this is just unbelievable ma dai davvero anyone can anyone just ecco ancora let's get her and get out of here or use the radio and get out of here but let's just get out of here vorrei trovarla sinceramente la porta è aperta direi di andare di qua perchè probabilmente lei è andata di qua clarissa is asleep right now be still so as not to wake her che senso ehm scherzo it's a joke or something I hope yeah non lo so non credo sia uno scherzo perchè se cioè a questo punto tutto dovrebbe essere uno scherzo no ok cross your fingers eh si proprio clarissa oh well look at this the super twins decided to grace me with their presence i thought maybe i wasn't good enough for a husband are you alright i mean yeah why yeah sure my hair might be a little weird but not a lot i can do about that um you just sounded off i guess right didn't she sound off i don't really know what she normally sounds like well i mean i don't know i'm fine now so all right where's this famous radio i don't know i can't get it to do anything i want alex wanna take a look at this no ci penso io spostatevi ci no 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 this is like a low frequency thing it's just meant for the base it won't i don't think it can be now ovviamente immagino no 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 dark no 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 not now No, stiamo... stiamo spaventando di nuovo! C***o! Beh, solo... Clarissa! C'è qualcosa che... possiamo tagliarla? Perchè?! Arcavacca! C***o! C***o! Meglio sparita che morta! Oh! Forse questo era il... il radio che aveva usato. Se possiamo... E adesso esceciò? Perché sempre hai pensato che Stand' Masters. Madonna ha preparato la conoscenza Che devi fare? Che devi fare, oh! Oh! Nooo! 예 ! Perché lei faria questo? Perché lei faria questo? Non ci credo! Non credo! Non credo che lei faria questo! Cioè, le cose sono... ...che ora, ma... ...non... ...non... Jonas, questo è davvero scoperto! Non... ...non ne so... ...che... Raga, ma... No, vabbè, no, ci ho un attimo la testa per rispondere... ...a queste cose... ...basta, Lucia, basta, oddio! Wow, ehm... ...non c'è un modo che si è arrivato da questo, certo? ...non c'è... ...non c'è... ...non c'è... ...non c'è. Che diabolo? ...Ehhh... ...non lo so! Non lo so! Allucinazione! Boh! ...non lo so! Boh speriamo vedremo Andiamo all'avamposto Madre mia raga Fa sempre un brutto effetto vedere una cosa del genere Sì sì Allora raga Sta continuando a succedere qualsiasi cosa È chiaro che st'isola è infestata Almeno credo Da anime di persone che non lo so Non so perché adesso sta Cioè insomma ci hanno presi a noi come loro obiettivi Non lo so raga Scusate ma è stato abbastanza brutto quello che si è visto Vabbè Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione E updos a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale Potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione E anche il link per farmi delle donazioni Ciao